Questa notte come tre settimane fa sono entrati dentro al negozio, probabilmente hanno preso i ladri, hanno cercato questa volta di scassinare la porta e invece sono entrati dalle finestrelle, quelle in altro, apribili. Il doppio furto con scassi in meno di un mese qui all'estetica Gaia in Viale San Marco a Mestre, nel mirino dei ladri anche l'attigua gelateria e caffetteria La Sosta dove però il colpo è saltato grazie al suono della serena dell'allarme che ha messo in fuga il o i banditi. Era circa l'una del mattino, i commercianti qui ora si stanno riorganizzando, vogliono le nuove ronde, una sorta di vigilanza privata H24. La situazione sta degenerando qui in zona perché a parte i due bar dei cinesi che abbiamo qui vicino e che continuano a dare disponibilità a spacciatori, baby gang piuttosto che persone che delinquono alla luce del giorno, oltre alle abitazioni lì mai ultimate in via San Sovino dove abbiamo la certezza che almeno una ventina di persone lì ci vivono e fanno tutto quello che non dovrebbero fare, siamo stanchi. Ci hanno lasciati al buio eppure in questa parte di Viale San Marco senza le luminarie. Perché dicono i commercianti con Gaia? Oltre che non abbiamo nemmeno l'illuminazione di Natale, quest'anno io adesso non so se il nostro Brugnaro ci aiuterà in questo perché non c'è luce, non siamo tutelati. Da fino ottobre ad oggi quasi una decina le attività assaltate sempre nella notte e con i ride anche la droga, l'alcol, le risse eppure in pieno giorno, specie dalla cittadella del degrado di via San Sovino. Siamo stanchi, siamo stanchi i commercianti, siamo stanchi chi ci vive e dobbiamo solo avere una risposta perché io personalmente la voglio, dobbiamo difenderci da soli?